Non è stato facile per Paolo Reginelli a pochi giorni dall'Assemblea dell'ASET che nominerà il suo successore fare un consuntivo di sette anni di presidenza dell'azienda partecipata dal Comune. Sette anni in cui l'ASET ha dovuto gestire nuovi servizi crescendo in qualità e aumentando la sua presenza nel territorio. Questa mattina è stata convocata una conferenza stampa in cui il presidente ha ricordato i successi conseguiti dall'azienda e ne ha enunciato le prospettive. All'incontro hanno partecipato i dirigenti d'azienda, il sindaco Luca Serfilippi e la vice sindaca Loretta Manocchi. Entrambi hanno riconosciuto il buon lavoro effettuato da Reginelli. Noi abbiamo anche una sorta di controllo che facciamo, che è dovuto dalla legge, che è un report che si fa ogni due anni. È un report che convolgono circa mille persone e da un punto di vista prettamente statistico abbiamo avuto sempre più che la sufficienza, anzi specialmente nei settori che vedono il contatto tra il dipendente di ASET e l'utente. Quelli sono stati lo sportello, il conferimento del CRD e quant'altro. Quando c'è questo confronto il confronto è estremamente positivo. Quindi penso che i cittadini possano avere avuto e continuato ad avere e ha aumentato la stima nei confronti di questa azienda. Da un punto di vista invece estremamente pratico la qualifica delle spiagge, quindi con le varie bandiere blu, prese e quant'altro, con la soddisfazione degli operatori per certe altre zone, la dice lunga. Non di rado l'ASET ha affrontato periodi di emergenza, vedi per esempio la siccità che provoca problemi di rifornimento idrico. Grazie alla sua intraprendenza l'azienda ha realizzato un impianto di osmosi inversa che nei periodi di scarsità d'acqua del metauro può erogare 100 litri al secondo con acqua potabilizzata prelevata dalla falda idrica. Nell'ottica di quanto sta succedendo però, ha detto Reginelli, se a livello provinciale non c'è una regia che guardi lontano e preveda la realizzazione di invasi, non se ne esce. Viene richiesta anche una regia a carattere comprensionale per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Noi abbiamo una risorsa importante che è quella della discarica. Sì, la discarica è estremamente importante per tutti perché intanto penso che gestita in questo modo come è stata gestita possa dare più garanzie a tutti. Quindi nel momento in cui ci troveremo a non gestire una risorsa del genere, a questo punto siamo costretti noi a trovare qualcuno che ci fa conferire ai prezzi che decideranno loro. Quindi la musica cambia. Le farmacie comunali hanno assunto un ruolo calmierante per quanto riguarda i prezzi dei medicinali? Sì, è stato molto importante sia per i servizi perché ci sono tutta una serie di servizi dal CUP all'ortopressorio che stanno sempre più allargando la fascia di coloro che hanno a che fare con le farmacie. Mi sono molto esposto quando c'è stata da aprire la farmacia del centro commerciale Fano Center. Nonostante c'era una consistente parte sia di opposizione che di minoranza che era contrario a questo genere di apertura, è stata una scommessa vinta su tutti i fronti perché è quella che sta aumentando di più in percentuale di incassi e quella che dove abbiamo costruito lab per le vaccinazioni perché era l'unica in grado di avere una struttura del genere, è quella che è un punto di riferimento perché tutti i cittadini di Fano sanno che 363 giorni all'anno, cioè a parte Pasqua e Natale, dalle 9 del mattino alle 9 di sera c'è qualcuno. Presidente, un'ultima domanda, quella dei parcheggi a pagamento, lei ha delle proposte e anche un po' delle critiche per quanto riguarda quello che è stato fatto fino ad oggi? Il parcheggio a pagamento è una cosa che ormai tutti hanno digerito perché noi andiamo a Rimini, paghiamo 2,50 euro l'ora, la paghiamo fino a mezzanotte, andiamo via, siamo contenti, felici, vi discorrendo. Qui da noi sembra che tutto debba essere dovuto, gratuito e quant'altro. Abbiamo un rapporto molto infelice tra i residenti e i posti macchina, però noi il dovere di iniziare a ragionare su un contenitore di auto in possibilità del centro ce l'abbiamo perché è una necessità di ogni città moderna, il fatto di esegolare chi per ragioni di lavoro, di turismo e quant'altro si deve recarli in città e credetemi non sono i 6 euro durante il giorno o gli 8 euro o le 2 euro che si spendono perché si va a parlare con un professionista e quant'altro che fanno la differenza nella giornata e quindi secondo me una visione un po' più coesa e un po' più formale sui parcheggi bisogna ribavirla.